Ancora con Fulvio Massini e questa volta andiamo a introdurre una cosa che può sembrare un po' lontana però è più vicino di quello che sembra. 30 di novembre torna la Maratona di Firenze quest'anno come sempre l'ultima domenica di novembre Fulvio siamo nel periodo invernale o meglio ci stiamo uscendo qualcuno di voi vedrà questi video a febbraio, altri li vedranno magari a marzo Runes.it ripeto sempre insieme a Fulvio Massini siamo sempre noi Fulvio voglio preparare per la prima volta o magari per la prima volta voglio fare una maratona e scelgo la Maratona di Firenze diciamo in un primo periodo può essere marzo, aprile, maggio, giugno, fino all'estate come mi devo comportare? Cosa devo fare? Innanzitutto complimenti per la scelta che hai scelto la più bella Maratona d'Italia per cui al di là di questo aspetto un po' partigiano bisogna cominciare a correre ora perché chi pensa di correre la Maratona di Firenze è il momento che comincia a farci un pensiero niente di particolare, niente di eccezionale però correre tre volte a settimana i 12-14 km e cominciare una volta ogni 20 giorni a allungare allungare vuol dire iniziare dai 16 km, poi fare 18 km, 20 km qualche volta anche qualcosa più di 20 km, verso 23-24 km in modo da arrivare a settembre in condizione di poter correre tranquillamente intorno a 30 km e poi da lì effettivamente iniziare la preparazione specifica degli ultimi mesi e ci porterà poi verso la Maratona di Firenze Maratona di Firenze, altri segreti particolari, poi ovviamente da settembre in poi rifaremo altri video dove in specifico entreremo nei dettagli la Maratona di Firenze è una maratona che negli ultimi tratti presenta anche qui un po' di curve e un po' di San Pietrino, ci si prepara normalmente come una maratona normale? Sì, ci si prepara una maratona normale però si ritorna un po' al discorso che facciamo prima sulla ginnastica al quale vorrei aggiungere, oltre a preparare bene questi muscoli a sopportare queste curve allenare anche la parte centrale del corpo, famoso con stabiliti che è il punto di convergenza di tutte le catene cinetiche parola che può sembrare strana e difficile ma in realtà rappresenta tutto il modo di intervento dei muscoli quando si fanno delle azioni motorie, in questo caso le azioni di corsa per cui avere addominali dorsali, glutei molto forti insieme a come ho detto prima le anche, i ginocchi e le caviglie servirà sicuramente a non perdere velocità nell'ultima parte della Maratona di Firenze Firenze Marathon è il nome del sito internet ufficiale della Maratona dove ci si può già iscrivere eccetera eccetera lo scorso anno record di partecipanti, soprattutto il record dei partecipanti la Maratona di Italia è più partecipata dagli italiani non ce lo dimentichiamo che ha superato per la prima volta anche la Maratona di Roma che effetto ti fanno tutti questi numeri? lo scorso anno, 2013, la Maratona di Firenze, grazie all'amico Franco Civai ha raggiunto gli oltre 100.000 arrivati in tutte le sue 30 edizioni sono numeri Fulvio? sono importanti se si pensa alla prima edizione e tutte le altre che abbiamo visto fino agli anni 90 oggi siamo veramente in una posizione d'eccellenza però non ci fermiamo perché vogliamo ancora andare avanti con i numeri perché sia io e tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo siamo propensi per cercare di accogliere le persone che decideranno di venire a correre a Firenze ci crediamo molto nella nostra Maratona, la gente ci apprezza e ci dà fiducia ogni anno quindi noi cercheremo di accontentarli cercando anche di organizzare la Maratona nel migliore modo possibile può sembrare una domanda banale, magari ti chiedono la risposta in pochi secondi cos'è per te la Maratona di Firenze? questa è una bella domanda, è una domanda che mi emoziona perché la Maratona di Firenze io posso dire che sono cresciuto la Maratona di Firenze io ho fatto la Maratona del Mugello perché c'è la Maratona del Mugello poi il mio primo maratonetro aveva allenato a corso la Maratona di Livorno ma da quando è venuta la Maratona di Firenze per me aveva la Maratona nella mia città poi conoscendo Firenze così come la conosco io e conoscendo le persone che conosco diciamo in Italia e fuori dall'Italia e andare a dire venite a correre a Firenze che è la mia città per me è grandissima fonte di soddisfazione per cui sai io la Maratona di Firenze ce l'ho nel sangue